abbiamo subito i primi 20 minuti l'Empoli in maniera diciamo pesante sul piano della manovra abbiamo tirato in porta di più abbiamo avuto più occasioni stando le statistiche però ripeto una squadra dell'Empoli ha meritato la vittoria perché ha giocato un calcio migliore più più veloce più fluido e noi siamo stati un pochino più lenti anche se abbiamo avuto molte occasioni da rete chiaro che 4-0 è penalizzante normale che quando succedono queste seratacce dopo aver tirato molto in porta bisogna tirarsi sulle maniche pedalare e sapere che mancano 18 partite ma la prima cosa intanto da sottolineare penso che sia importante la prova dei nostri giocatori dell'allenatore per primo poi dei giocatori dopo ripeto chi ama il Palermo lo segue chi lo vuole amare lo seguirà però il primo passo dobbiamo sempre farlo noi niente meglio dopo questa partita stare zitti io come capitano e tutta la nostra squadra ma io posso dire solo una cosa che come capitano a questa squadra prendo responsabilità per questo che è successo oggi e ora solo testa alta per la prossima partita e solo dire che una cosa che questa strada è lunga e secondo me dobbiamo vincere questo campionato sì sì normale noi contro Foggia vogliamo vincere perché questo è perché noi siamo Palermo giochiamo a casa è normale che vogliamo vincere tanto tanto aiuto da tifosi sarà tanto importante per noi perché non è stessa la cosa se veniamo al stadion usciamo e vediamo 20.000 25.000 persone o vediamo 2.000 3.000 persone non è stessa